Buongiorno a tutti, se volete guadagnare i vostri posti, prendere posto, diamo avvio ai lavori questa giornata, intanto chiediamo anche agli ospiti della Camera di Commercio di Lecce che ci seguono in streaming anche in diretta di prendere posto anche di là, un saluto anche a loro e passo la parola alla dottoressa Partipilo che ci ospita al dirigente della Camera di Commercio per dare avvio ai lavori di questa giornata. Buongiorno, sono lieto di dare i saluti della Camera di Commercio e del Presidente che purtroppo oggi non è più presente per questo convegno, la seconda volta che ospitiamo questa Camera era questo convegno, siamo lenti della partecipazione di tutti gli operatori economici e delle pubbliche amministrazioni. Do la parola alla dottoressa Gentamaro, in maniera della potenza di saluti. Buongiorno a tutti, davvero, si funziona, davvero soltanto un saluto rapidissimo anche perché è rivolta agli operatori che hanno manifestato interesse per questa nuova operazione. la metodologia di acquisti che stiamo introducendo all'interno come regione ma anche cercando di lanciare all'esterno mettendo a disposizione la piattaforma in Puglia di tutti gli operatori pubblici che siano interessati e per questo io ringrazio tutti gli operatori che hanno avvenuto all'iniziativa, che sono qui, che stanno contribuendo a dare vita a questo progetto con la loro adessione, con i loro interessi. Sono estremamente soddisfatta di questo perché le strutture si sono molto impegnate, siete qui piuttosto numerosi, questa sala è grande e così come so che sono numerose le presenze anche a Lecce dove la giornata si svolge in contemporanea. Quindi io credo che con questa piattaforma gestita dalla esperienza e dalla competenza degli amici di Nuova Puglia stiamo dando un contributo notevole alle linee politiche più importanti che ci vengono imposte ma che accettiamo con l'assoluta convinzione sia a livello nazionale che a livello europeo. Cioè la linea del contenimento dei costi, del contenimento della spesa pubblica e al tempo stesso della trasparenza e della massima apertura alla concorrenza con l'informatizzazione di tutte le gare e poi la linea del minore impatto possibile sull'ambiente perché tutto quello che si risparmia di carta, di trasporti, di stampe attraverso le gare informatiche naturalmente comporta un grande beneficio per l'ambiente. A maggior ragione quando sarà a pieno regime anche l'esperienza di Green Puglia Procurement noi abbiamo un tavolo tecnico che su questo sta lavorando all'acrenente quindi questo obiettivo del minimo impatto ambientale sarà ulteriormente possibile conseguirlo attraverso il Green Puglia Procurement. Sto già benendo meno all'impegno di limitarmi ad un minuto quindi permettetemi soltanto ancora di ringraziare di cuore sia la struttura dell'assessorato sia il Nuova Puglia che sta davvero lavorando tantissimo su questa esperienza, su questo progetto la Camera di Commercio che per la seconda volta ci ostita ma questo è anche un fatto simbolico, lo abbiamo fortemente voluto di venire a fare questo tipo di formazione nella casa degli imprenditori e poi desidero ringraziare anche se non so nemmeno se sono presenti ma comunque ricordare a tutti quali sono i soggetti che hanno già aderito in pieno all'utilizzazione di Nuova Puglia e sono Aeroporti di Puglia, è stato il primo l'ARPA, l'IPRES se sto dimenticando qualcuno aiutatemi o comunque perdonatemi grazie, arrivederci e buon lavoro a tutti va bene, ringraziamo l'assessore Dentamaro sempre vicino alle nostre iniziative e sentiamo adesso i saluti del direttore generale della società in house in Nuova Puglia il dottor Francesco Saponaro a lui la parola grazie circa un secolo fa fu coniata una vera e propria teoria generale per il ruolo della pubblica amministrazione e gli ingredienti di questa teoria generale sono notissimi imparzialità, prevedibilità, trasparenza il grande Max Weber che è stato uno dei più grandi intellettuali di tutti i tempi fu semplicissimo nell'individuare gli ingredienti fondamentali della pubblica amministrazione si dà il caso però che un secolo fa la pubblica amministrazione si occupasse di poche cose l'ordine pubblico l'infrastrutturazione di base le strade ma non svolgeva tutti i ruoli e le funzioni che nel corso dei decenni del novecento fino ad arrivare al nostro secolo sono cresciute esponenzialmente fino a configurare la pubblica amministrazione anche come uno dei più grandi produttori di servizi se non di beni pensate ai giorni nostri quindi solo per pochi secondi sono tornato ad un secolo fa pensate ai giorni nostri al fatto che in Italia noi abbiamo una spesa pubblica annuale in fondo contenuta altra cosa è l'indebitamento storico come dire che arriva a duemila miliardi ma la spesa pubblica annuale al netto degli interessi si è molto ridotta oggi anche rispetto agli altri paesi europei oggi viaggia intorno ai 700 miliardi di euro pensate al fatto che 108 miliardi su 700 sono destinati alla produzione dei servizi universalistici della sanità fate voi la proporzione per dire quanto pesa un solo filone un solo filone che un secolo fa era affidato alle fondazioni ai privati alle associazioni caritatevoli e via discorrendo e quanto questo pesi nel prodotto interno lordo nella attivazione di offerta privata indispensabile anche per produrre i servizi pubblici allora in una situazione così mutata dove persino le spese della difesa comportano rilevanti acquisti di beni e servizi sempre più complessi pensate a come sia difficile in ogni caso un'impresa complessa quella di garantire gli stessi ingredienti di un secolo fa gli stessi elementi pilastro di un secolo fa prevedibilità trasparenza imparzialità della pubblica amministrazione il campo è anche minato perché ovviamente ovviamente la strutturazione dei sistemi politici democratici ha portato anche a enormi problemi che ora non sfiorano nemmeno di rapporto tra la sfera dell'amministrazione nella sfera della politica ha varie conseguenze di cui una delle più gravi è anche la corruzione che va nominata in quanto tale perché purtroppo è diventata nel corso dei decenni uno degli ingredienti più critici dell'agire della pubblica amministrazione tutta questa premessa per dire molto semplicemente che solo attraverso l'innovazione tecnologica e la costruzione di strumenti prevedibili imparziali trasparenti come sono quelli che oggi torniamo a presentare quelli di Empuglia è possibile dare una risposta aggiornata contemporanea all'obiettivo che rimane sempre quello di garantire ai cittadini alle imprese il massimo di imparzialità trasparenza e prevedibilità nel caso delle gare d'appalto e del cosiddetto procurement della pubblica amministrazione questo è un elemento nevralgico allora noi oggi possiamo tornare a ribadire dopo il primo incontro già fatto alla Camera di Commercio che il regolamento emanato dalla Regione Puglia sugli acquisti la pratica perché non parliamo di un effetto d'annuncio ma parliamo di una pratica che si sta strutturando nel forzo degli anni ormai da quando si è avviato il progetto in Puglia anche utilizzando bene i fondi comunitari la pratica sta confermando che è possibile in un campo così delicato come quello degli acquisti garantire un operato come dire a prova di trasparenza della pubblica amministrazione e nello stesso tempo dare ai cittadini e alle imprese e agli operatori la voice cioè la possibilità di interagire sulle regole di funzionamento è ovvio è ovvio altri approcci sarebbero definiti più di tipo logistico che non universalistico e questo è lo scopo della pubblica amministrazione regionale nel caso di Nova Puglia nel caso di Nova Puglia noi cito la legge istitutiva abbiamo banalmente o semplicemente anche se è un lavoro complesso il compito della gestione tecnica del sistema informatico di supporto alle attività di Empuglia il compito lo sviluppo e la promozione di Empuglia per l'utilizzo della centrale di acquisti da parte del maggior numero di soggetti pubblici è stato già citato un primo elenco di soggetti che hanno aderito e poi l'assistenza tecnica per la risoluzione delle problematiche tecnico-operative connesse al regolare funzionamento della piattaforma Empuglia e il supporto alla gestione dell'albo online dei fornitori abbiamo messo in campo un team molto professionale ben assortito sulle materie tecniche e anche giuridiche che supporta costantemente lo svolgimento delle attività di Empuglia e come diceva poc'anzi l'assessore Dentamaro insieme tra braccio tecnico chiamato in Nova Puglia è attività politico-programmatica e regolamentare dell'ente regione perché questa è una funzione classica che spetta all'istituzione all'ente regione riteniamo di poter garantire un sempre più veloce progresso nel senso del numero di soggetti che utilizzano Empuglia e anche del numero di aziende di operatori che possano conoscere meglio e magari utilizzare al loro beneficio nell'ambito delle regole già accennate la piattaforma Empuglia grazie un attimo fuori cambio di impostazione intanto saluto l'assessore Ventamaro e il direttore Francesco Saponaro per il loro saluto per il loro intervento introduttivo a questi lavori ricordo l'occasione anche per portare tutti i nostri saluti agli operatori economici che ci seguono non solo da Lecce ma anche dal nostro portale dal nostro sito Empuglia.it ma anche al presidente della Camera di Commercio Alfredo Prete che presidia la sala di Lecce la dottoressa Sabina Sansonetti presidente di Nuova Puglia e i nostri collaboratori che stanno lì a vostra disposizione per ricevere eventualmente i vostri quesiti la dottoressa Stefania De Pascali e Rosa Illuzzi di Nuova Puglia